Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 ricordiamo che è chiusa l'entrata di Firenze Sud in direzione Roma per lavori fino al 13 marzo. Si corre oggi in Toscana la seconda tappa della corsa ciclistica Tirreno Adriatico da Camaiore a Follonica lungo il percorso. Provvedimenti alla viabilità. Su raccordo autostradale Siena a Firenze restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonzi e Tavarnelle. Su raccordo Siena a Bettolle per lavori di pavimentazione e scambio di carreggiata all'altezza di Castelnuovo Berardenga chiusura dello svincolo di colonna del Grillo in ingresso e in uscita in direzione Siena. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.